bella raga eccoci ritornati dunque il video esce un po tardi perché mi sono visto i festeggiamenti dunque non ditemi nulla e oggi è stata una grandissima emozione per l'addio al calcio di gigi buffon e comunque oddio l'addio alla juventus dopo 17 anni di gigi buffon che ha alzato il suo ultimo trofeo in bianco nero e ha lasciato l'eredità della porta a washek shesny per il prossimo anno molto probabilmente il vice sarà mattia perin una partita che è sembrata pressoché un amichevole primo tempo finito 0 a 0 un po di riserve per la juve un verona che non ha spinto più di tanto e poi la sbloccata in apertura di primo della ripresa daniele rugani al suo secondo gol in bianco in campionato dopo quello siglato a udine nel 2 a 6 e poi dopo tre minuti la punizione fantastica di miralem pianic per il verona il gol di alessio cerci è arrivato quasi a freddo dopo l'uscita dal campo di buffon uscita dal campo che è stata salutata anche dagli avversari dunque dal verona con soprattutto gli abbracci di romulo cerci e tutta la panchina in piedi da applaudire comunque che lo voglia o no io sto parlando di giocatore e dunque a livello di giocatore lo vogliate o no carissimi comunque una leggenda ha vinto nove scudetti l'unico giocatore a vincere nove scudetti ha il record di imbattibilità in serie a con 974 minuti ha battuto quello di sebastiano rossi l'unica pecca è stata il non aver vinto mai la champions league però comunque in compenso è stato un portiere che comunque ha vinto il campionato del mondo nel 2006 e nonostante abbia vinto il campionato del mondo è retrocesso in serie b con la juventus dunque accettando la serie b da campione del mondo come fecero i vari del piero e camoranesi dunque anche questo è entrato ancora in più in modo particolare nei cuori bianconeri la partita c'è poco da dire ripetere un amichevole c'è stato un piccolo episodio un ricorre contestato al verona poi non più di tanto per un fallo di buffon su matos ma lì buffon correva verso la porta e sta più matos che andato su buffon quindi poi c'è stato il ricorre sbagliato da l'icksteiner altro giocatore che lascerà la juve a fine anno come la lascerà samoa che è andato all'inter mentre l'icksteiner molto probabilmente chiuderà la carriera al borussia dortmund ma questo ancora non si sa che dire l'icksteiner che poi è sbagliato il rigore del possibile 3 a 1 e dunque è un rigore che siamo sempre la mani larghe si rigore giocatore comunque era di spalle dunque non era volontario io sinceramente non l'avrei dato però il regolamento ormai chi ha le braccia larghe si danno sempre dunque abbiamo preso queste abitudini io credo che sia un regolamento da cambiare la juventus che chiude con 95 punti 30 vittorie 5 pareggi e 3 sconfitte dunque con 86 gol fatti secondo miglior attacco 24 gol subiti in miglior difesa dunque settimo scudetto consecutivo nessuna squadra c'era mai riuscita in italia 4 double di fila nessuna squadra c'era mai riuscita in italia e vediamo domani come si chiuderà il campionato soprattutto le gare attese sono quelle quando riguardano la zona di recessione soprattutto domani sera a lazio inter per quanto riguarda l'ultimo posto in champions league per il momento ci guardiamo questa vittoria ragazzi e vediamo ci sentiamo domani post per il post partita si inizia alle 15 con genua torino e poi si prosegue con le altre fino a chiudersi con lazio inter e sassuolo prova comunque ci sentiamo domani ragazzi buona giornata e un saluto ai campioni d'italia e sempre fino alla fine forza juve ciao